Sto andando al primo store, devo fissarvi che sono agitatissimo, di vedervi ma sono veramente agitato, non ti sento più. Io veramente sono agitato, che roba. Ragazzi siamo entrati verso le 5 e siamo usciti adesso che saranno le 10 e mezza, veramente è stato incredibile vedervi, è stato bellissimo, sono pieno di pacchi ovunque tutta la macchina, i quadri fichissimi, è stato bello incontrarvi, levate un sacco. Sto arrivando alla discoteca laziale, ci vediamo lì, non ho neanche fatto la barba, barba, che faccio, a tra poco. Ciao! 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 Ciao!